c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo e guardate qua e guardate qua bentornati a risolto giallo puntata eccezionale perché credo per la prima volta in quasi due anni oggi parliamo di un autore straniero Pierre Martin e ne parliamo con la sua traduttrice Roberta Scarabelli buongiorno buongiorno Alessia buongiorno a tutti io ho tanto desiderato incontrare Roberta e le ho fatto anche un po' di stalking spero che tu mi abbia perdonato dispiace a me non essere riuscita a venire prima però insomma ce l'abbiamo fatta io appena ho letto il primo dei libri della serie di Madame Le Commissaire le ho scritto subito immediatamente ne ripozza per fortuna mette ben in chiaro chi sia l'autrice della traduzione e perché l'ho fatto primo perché questi sono libri veramente divertenti e secondo perché secondo me la figura del traduttore è fondamentale e come tale ignorata viva il calambur partiamo dall'inizio cinque volumi editi uno già tradotto già tradotto ma pubblicati altrove ben undici è uscito da pochissimi giorni l'undicesimo volume della serie uno all'anno ne sforna Pierre Martin che non è Pierre Martin che non è Pierre Martin e infatti tu non lo traduci dal francese come si potrebbe immaginare essendo i volumi ambientati lì allora partiamo da una domanda anomala mai fatta prima perché di solito io qui ho l'autore e la domanda è conosci l'autore? no l'autore non si può conoscere perché l'autore scrive sotto pseudonimo essendo tedesco ma sappiamo che i tedeschi hanno un amore proprio sviscerato per la Francia e anche per l'Italia infatti lui ha scritto anche alcuni libri ambientati in Italia che credo non siano stati ancora tradotti e abbiamo l'esempio per esempio anche di Banalek che è tedeschissimo anche lui però ambienta i suoi romanzi in Francia e quindi sotto pseudonimo e questa sorta di Elena Ferrante esatto non si sa chi sia neanch'io lo so devo dire che non l'ho mai chiesto e mi tengo anch'io la suspense e d'altra parte noi lavoriamo con il testo quindi è il testo il nostro autore a cui facciamo riferimento ogni tanto ci viene qualche dubbio ma riusciamo a risolverlo con la redazione che eventualmente contatta l'autore ma proprio in casi in cui ci sono problemi irrisolvibili beh questo è veramente da giallista esatto non si sa chi sia non si sa nemmeno se sia uomo o donna no bella domanda io credo sia uomo però è strano che abbia scelto una protagonista donna che però ha caratteri molto poco femminili diciamo se hai notato questa questa ecco quindi in realtà dalla scrittura è un po' difficile scoprirlo però io mi sono fatta l'idea che sia un pierre quindi un uomo uno scrittore ok allora andiamo al personaggio di questo di questa madame le commissaire vabbè io li ho letti io ho letto il primo e l'ultimo quindi l'in e lo yang l'alfa e l'omega però ambientiamola meglio con i nostri ascoltatori chi è madame da dove arriva cosa le è successo allora madame era noi la troviamo in un momento nel primo volume in un momento un po' di crisi era il comandante di una un'età anticrisi antiterrorismo a Parigi e comandava questa grossa squadra di di agenti di uomini e un giorno ha subito un un incidente molto grave perché all'Arc de Triomphe è scoppiata una bomba che ha decimato la sua squadra e anche lei è rimasta molto ferita quindi noi la troviamo in fase di convalescenza nel paese suo di origine che è Fragolin anche questo è un paese inventato anche se sembra tipico francese io sono andata a cercarlo infatti ma credo che l'abbiamo ha un nome bellissimo credo perché Fragolin è stupendo e io me lo immagino un po' come Grimaud che non so se qualcuno lo conosce comunque è proprio questo paesino arroccato sui monti proprio appena dietro il mare da cui si vede il mare e dalle descrizioni che fa l'autore di questo paese penso che ci possa stare insomma un'ambientazione simile quindi lei torna nel paese dove è nata dove è cresciuta Fragolin dove si colloca quindi? in Provenza in Provenza sì quindi diciamo che dalle parti di Tolone infatti più o meno la zona i paesi intorno sono dove vengono ambientati tutti i romanzi tutti i gialli e torna per la convalescenza in realtà poi viene tra volte affascinata da questa vita completamente diversa da quella che ha vissuto fino a quel momento a Parigi quindi una vita frenetica con impegni e responsabilità e decide di restare a Fragolin quindi di lasciare il suo lavoro e di non fare più la commissaria di uscire dalla polizia però le cose non vanno esattamente così nel senso che succede un piccolo giallo nel paese e il suo ex capo questo Maurice Balancourt che ricorre in tutti i romanzi la chiama e le dice guarda io voglio che tu sia tua a seguire le indagini e ti do il grado di commissaire che è un grado molto inferiore rispetto a quello che aveva prima e ti crei un piccolo commissariato a Fragolin e da sola insomma porti avanti queste indagini lei naturalmente all'inizio è un po' reticente però ovviamente l'istinto dell'investigatrice prevale e alla fine accetta e poi non farà le indagini da sola perché si trova un assistente che io credo sia il personaggio è uno spettacolo il suo assistente non so nemmeno se svelarne svelarne o farti svelare i suoi tratti caratteristici perché in realtà sono così carini e vogliamo da scoprire ve li buttiamo qua così vi stiamo mettendo un po' di pepe nel piatto venite a scoprirlo vi dico soltanto che se dovessi immaginare a una trasposizione televisiva è stata fatta? non credo non ancora non ancora non ancora appena la scoprono lo fanno perché c'è tutto ci sono i personaggi c'è l'ambientazione beh lui potrebbe essere eh no non potrebbe essere interpretato da Yves Montand perché non è più tra noi però diciamo che è un personaggio così un po' pantera rosa un po' lungo segaligno magretto pieno di strani tic lui è veramente molto molto ben riuscito come personaggio si potrebbe essere una pantera rosa è vero torniamo alla madame intanto madame come si chiama? Isabelle Bonnet Isabelle Isabelle è un po' spregiudicatella come come donna questo lo possiamo dire sì 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 devo dire che proprio come diciamo prima un po' l'antitesi della femminità ma in senso positivo è un personaggio molto forte molto deciso e anche nella vita privata è una donna che prende in mano la situazione diciamo e gestisce anche le relazioni che poi vengono raccontate nel corso dei sei romanzi e già per lei sono sei già sono sei sì io già penso a sei lei già questa cosa privilegiata che va avanti e quindi anche nelle relazioni private decide di imporre lei delle regole e non non sembra una donna bellissima dalle descrizioni ma molto affascinante quindi ha molto successo con gli uomini Isabelle Luper giovane esatto tu la vedi così? sì ma sì 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 me ne immagino un po' ha questa cicatrice oltretutto sulla sulla fronte che le è rimasta dall'incidente una cicatrice sulla gamma quindi lei si sente molto provata diciamo però no no piace piace il suo fascino va oltre l'aspetto fisico e quindi questo si può dire questa donna vive un menage a trois assolutamente sotto il sole alla luce del sole alla luce del sole è riuscita a farlo digerire forse perché va benissimo anche a loro ad ambedue gli uomini con cui vive questo questo parallelismo e se da un lato ad un'alettrice bigottona come me all'inizio ha dato un po' fastidio io sono estremamente monogama quindi vederlo anche sulle pagine così un'istigazione all'adulterio devo dire la verità Roberta mi ha dato fastidio terminato il dovrebbe essere qua è qui l'inglese questo è il quinto il convento è qui sì terminato il convento l'ho perdonata ho capito che ha le sue buone ragioni e le sue buone scusate però questo tu mi confermi è un unicum nel panorama letterario soprattutto letterario del cosy crime perché questo non stiamo parlando di polar no assolutamente turissimi con atmosfere Jean Gabin no anche perché è proprio l'opposto del noir il noir che è ambientato comunque è un'ambientazione urbana questa ambientazione fumosa comunque con un sacco di vizi peccati e malavita qui in realtà è tutto l'opposto una caratteristica di questi romanzi è che avvengono sempre d'estate cioè non è a Fragolet non esiste l'autunno la primavera è l'inverno sono sempre tutti sulle terrazze esatto va sempre a fare il bagno insomma questa quindi è un'ambientazione molto solare proprio l'opposto di quello che è l'ambientazione noir però diciamo che come sottogenere del giallo possiamo classificarlo come poliziesco senza ombra di dubbio e lei si ha questo menage a Troyes diciamo che uno dei due uomini lo digerisce un po' meno dell'altro e questo crea un po' di problemi che vedremo si risolveranno nel sesto libro ma non posso dire niente dovrei aspettare Neri Pozza si è aggiudicato i diritti a quanto vedo fin dal principio ma tu hai qualche idea sul mercato di questi romanzi Pierre Martin dove vende? ecco i traduttori diciamo che da questo punto di vista sono un po' tenuti all'oscuro di tutto quello che succede dopo che viene consegnato il libro e dopo un aiuto magari nella promozione del libro perché i lettori sono molto interessanti da qualche anno alla figura del traduttore quindi ogni tanto aiutiamo nella promozione partecipiamo appunto a incontri però quella che è la fortuna del libro ogni tanto chiediamo però non abbiamo nessun riscontro concreto però ti posso confermare quello che mi stai dicendo perché Thriller Caffè per il quale io mi sono aggiudicata la recensione anche della morte in convento mi stava sollecitando mi stava sollecitando Giuseppe è stato qua settimana scorsa però a livello epistolare quando mi dai la madame quando mi dai la madame e io quando gli ho detto io ti do a madame dopo che viene da Scarabelli ha risolto giallo muti tutti ok d'accordo quindi è vero è vero ma no ma siete delle figure importantissime ora io mi domando per tornare alla tua domanda credo che si sono arrivati alla quinta diciamo al quinto volume della serie sta andando bene e io ho un riscontro più dalla parte dei lettori che mi scrivono cercano fanno delle loro indagini anche lo trovano una mail ogni tanto mi scrivono e la cosa mi fa estremamente piacere perché comunque hai un riscontro diretto di quello che è il tuo lavoro che quando lavori sai il tuo computer le parole dell'autore le tue parole e dimentichi un po' che poi il libro andrà e avrà una vita propria verrà letto e ogni lettore si farà la sua idea comunque e avere un riscontro è molto piacevole positivo o negativo che sia di solito è apprezzato molto anzi mi scrivono appunto chiedendo ma il prossimo quando uscirà e io dico giro la domanda alla casa editrice e vediamo devo dire una delle cose che riconosco in questo autore è di essere stato un furbacchione a creare questa ambiance così godibile perché è vero che Isabella è una viveur ma la sua amica quella con il negozio di saponetta alla lavanda è un'altra che voglio dire non è che fa prigionieri cioè sono due spregiudicate e poi le bocci anzi le petanque io ho fatto l'Erasmus a Marsiglia quindi tutta quella zona la conosco molto bene e la riconosco nei suoi romanzi quindi lui secondo me lui lei loro chi diavolo sia Pierre Martin il Marché l'aveva già ben controllata Alessia vogliamo parlare del cibo io ingrasso solo a leggere ecco è un'altra cosa su cui insiste molto l'autore cibo vino e viene descritto molto stappano rosè come se non ci fosse mai ma a te non viene voglia quando traduci di andartelo a stappare anche a te e ogni tanto eh certo e non ti si sa che i traduttori hanno un po' questa nomea ci sono degli stereotipi anche sugli traduttori che hanno i gatti bevono il tè e dopo le cinque bevono altro si cambiano e quale di queste è vera per te? hai un gatto ho il gatto certo tè bevo il tè e se non devo lavorare perché io amo molto lavorare di sera e di notte è veramente da sempre il mio habitat preferito se non devo lavorare sì sì altrimenti preferisco acqua fresca adesso io chiudo con Pierre Martin perché abbiamo fatto la promozione siamo tutti contenti ne riposa poi effettivamente sai come ho conosciuto io questa serie questo autore con una libraia con una libraia di Monza che mi piace tantissimo un'altra figura molto importante la libreria è Libri e Libri non so se tu abbia mai avuto occasione di passare è proprio sul Corso Italia è una libreria indipendente molto bella con una libraia attentissima che ormai sa che a me piacciono soli i gialli italiani perché solo quello le compro e un giorno mi ha sfidato e mi ha detto senti un po' Alessia e io le ho detto non mi dare stranieri perché non li posso invitare a risolto giallo come faccio e lei mi ha detto datti una chance ma dai sono molto contenta eccoci invece adesso voglio parlare di Roberta basta Piermartelli voglio parlare di Roberta perché sei un po' come una doppiatrice sei una di quelle figure che stanno teoricamente dietro alle quinte e che invece sono i motori non immobili i motori immobilissimi del tutto il lavoro di traduttore per te quando nasce come era quello che volevi fare è arrivato casualmente arriva in parallelo ad altre cose vuoi un'altra domanda rispondi a questo è arrivato molto presto ma in realtà avevo intrapreso un'altra carriera e avevo frequentato la scuola del piccolo come organizzatrice teatrale lavoravo in teatro una compagnia di teatro per ragazzi il teatro del sole e una collega mi ha detto guarda cercano però avevo studiato lingue quindi tutti sapevano questa doppia passione e un'amica ha detto ah guarda stanno cercando perché devono tradurre ma sì dai diamogli una chance così e da lì poi è nato tutto e ho cominciato a tradurre regolarmente poi ho lavorato per una decina d'anni in casa editrice questa? no la Vallardi e dopodiché ho deciso che mi piaceva tanto lavorare con le parole con i libri e quindi ho scelto definitivamente la carriera di traduttrice solo tedesco? a tempo appieno inglese ah inglese sono partita con l'inglese in realtà io sono un'anglista amo il tedesco in maniera veramente per cui ho cercato inspiegabile è una lingua bellissima e quindi ho sempre voluto affiancare perché ovviamente il mercato inglese offre molte più possibilità come traduttrice e continuo a tradurre anche dall'inglese? sì sì certo è talmente epocale che io lo lascerei un attimo lì sullo scaffale torniamo tra comuni mortali hai qualcosa da segnalarmi? visto che con questa è andata bene magari eh magari sì dai adesso sto traducendo un libro dall'inglese che è un romanzo però parla si rifà la biografia di Ann Morgan che è la figlia di JP Morgan il famosissimo miliardario banchiere che durante la prima guerra mondiale aveva creato un una specie di fondazione proprio dietro le linee francesi le linee del del fronte francese per aiutare ricostruire proprio durante la guerra ancora durante la guerra i paesi che erano stati distrutti portando eh anche i libri eh alla popolazione quindi non soltanto cibo a case eh ma anche cultura cibo per l'anima cibo per l'anima quindi è molto molto interessante molto anche lì c'è un piccolo giallo nel senso che eh c'è una libraia eh una bibliotecaria di New York che scopre negli anni Ottanta questa figura e comincia a fare ricerche per vedere che fine ha fatto insomma è molto molto interessante devo dire che i libri sulla prima guerra mondiale eh vanno vanno molto in questo periodo sono sì sì ne hanno tradutti tipo 4-5 negli ultimi anni sì senti ma nel tuo tempo libero che domanda cretina che mi sta venendo no lo so scusatemi no glielo faranno tutti perché io nel mio tempo libero e anche quello che non dovrebbe essere libero io leggo leggo gialle e quindi mi domando chi per mestiere legge nel tempo libero che fa? eh legge legge a volte a volte legge non so ti propongono un autore tu cerchi di leggere anche le cose che ha scritto prima che o magari anche già tradotte perché a volte un autore viene tradotto da più traduttori non sempre dallo stesso e sono curiosissima prendo tantissimi libri in biblioteca li prendo poi cerco di leggerli ma poi il tempo non c'è quasi mai però solo il fatto di vederli di sfogliarli dargli un'occhiata per me è bellissima hai una biblioteca d'affezione? io ho la Sormani che per me è proprio la cattedrale credo di avere una delle prime tessere sì 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 perché all'epoca insomma era proprio l'unico non c'era io ho cominciato a tradurre non c'era internet non c'era era difficilissimo insomma fare ricerche quindi io vivevo praticamente in Sormani adesso è molto più semplice tutto e un'altra è quella di zona che è la Calvairate che hanno appena riaperto ristrutturata bellissima quindi credo che le biblioteche siano un posto veramente da vivere e il nostro attuale assessore alla cultura sta facendo tanto per per renderle proprio luoghi di aggregazione non soltanto dove si va a prendere un libro e si porta a casa pensa che con il nostro regista con Fabio Ranfi avevamo pensato di ambientare qualcuna delle puntate di Risolto Giallo fuori dallo studio e di andare proprio nelle biblioteche milanesi ma ci siamo accorti che a livello burocratico è molto molto difficile per esempio c'è quella insempione che è bellissima in mezzo al parco con queste vetrate che credo quest'anno faccia i 40 anni per cui sarebbe veramente bellissima devi chiedere autorizzazioni diventava una cosa complicata invece noi volevamo essere più leggeri più ariosi e potervi ospitare qui ed è un peccato perché tu pensa che una lettrice bulimica come me non ha mai preso un libro in biblioteca me lo sono chiesto spesso perché moltissimi di voi ospiti ci raccontano di questo ambiente della biblioteca io forse perché diventare un po' dei feticci i libri li vuoi tenere ecco questo non si può fare perfino di qua però è bello perché comunque vanno vissuti i libri quelli che li tengono la mia madre mi odia lei i suoi non me li presta no io li devo mangiare devono diventare miei va bene mi accommiato da te con un'ultima domanda sul futuro che è un po' diversa da quella che facciamo di solito perché di solito chiediamo stai scrivendo io a te non chiedo se stai traducendo perché la risposta me l'hai già data ma è questa c'è un autore o un'autrice eventualmente italiano che ti piacerebbe tradurre tradurre un autore beh anche volturare in una lingua straniera un autore se la metto un po' sul ridere in realtà io ho fatto anche tanti editing di autori italiani quindi vanno tradotti anche gli autori italiani nel senso che quando arriva il manoscritto grezzo anche dalla gente non solo che ci ha già dato una sgrossata diciamo come lingua e tutto c'è da fare ancora tanto lavoro sulla lingua sul risolvere le incongruenze perché comunque l'autore è concentrato su talmente tanti fronti che a volte magari qualcosa scappa quindi non è sbagliato dire traduciamo anche gli autori italiani ma sono tanti io non ho mai tradotto alta letteratura e mi spaventa molto e forse magari in futuro provare a a tradurre qualche autrice penso alle scrittrici più che altro sono tante quindi veramente la scelta sarebbe imparata ma una scrittrice italiana no straniera inglese o tedesca anche non mi dispiacerebbe ho traduto di solito letteratura di genere che io adoro perché credo che quella che viene definita letteratura di serie B in realtà debba avere la stessa cura la stessa perché sono i libri che vanno in mano alle persone a tanta gente e quelli che magari poi introducono le persone alla lettura un po' più impegnativa un po' più alta ma se uno prende anche un libro così per intrattenimento ed è scritto male quel lettore l'abbiamo perso credo assolutamente a parte il fatto che due anni di puntata risolto giallo ci hanno dimostrato che il giallo il noir il crime non sono affatto più letteratura di serie B anzi questo decreta il successo di questa trasmissione e di tutti gli ospiti che vi si avvicendano vi è da dire che abbiamo avuto ospite una criminologa la mia professoressa dell'università che ci ha spiegato come attraverso il giallo oggi si fa giornalismo di inchiesta di condanna di protesta e quindi è diventato un po' il libellum del popolo e poi critica sociale con il noir come dicevamo prima critica sociale e poi lasciamoci con un sorriso non potrò mai dimenticare Giancarlo De Cataldo che in un'intervista mi disse calcoli che mi ha riconosciuto un giorno un tassista e mi ha detto che il mio romanzo criminale era uno dei due libri che possedeva ma l'altro non romanzo criminale l'altro era troppo difficile l'aveva lasciato subito nonostante gliel'avesse regalato la fidanzata e allora Giancarlo molto incuriosito gli ha detto posso sapere chi è l'altro fortunato e questo aprì il cassettino del cruscotto e gli fece vedere come smettere di fumare allora ragazzi da Pierre Martin Roberta Scarabelli e Alessia Sorgato buon chance a Cilmon grazie Alessia e buongiorno a tutti quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo